Hey amici Domenico Snake, eccomi qua tranquilli video domenicale arriva sono leggermente fuori orario ma ve l'ho detto nel video precedente a causa di problemi lavorativi, troppo lavoro e si in effetti così durante la settimana non riesco a girare il video ma fatto sta che il video eccolo qua arriverà lo vedete già da titolo, ho fatto alcuni acquisti proprio durante questo video che riguardano il mio carissimo OnePlus 6 ho acquistato alcuni accessori quindi questo qua sarà un video non troppo lungo ma un video veramente short come si dice in termini tecnici ma ci vediamo subito dopo la sigla ok ragazzi andiamo avanti allora partiamo subito ad aprire Amazon che ho fatto due acquisti veramente molto interessanti di cui ho acquistato delle pellicole in vetro diciamo che è un kit composto da due pellicole in vetro veramente molto molto efficaci e diciamo che per la modica cifra di 9,99€ beh non potevo acquistare di più credetemi già lo avete visto anche dai miei video precedenti ci tengo veramente molto alla protezione di ogni mio dispositivo che ho posseduto soprattutto per questo OnePlus 6 la seconda cosa che ho acquistato su Amazon è una cover magnetica che lo va a proteggere sia avanti e sia indietro come potete vedere da queste immagini qui su Amazon la cover oltre che ad essere modulare composta da due parti con sé porta anche una protezione in vetro temperato beh devo dire che per quanto riguarda questa cover magnetica modulare sa il fatto suo ma il fatto sta che questi due accessori devono arrivare quindi durante questo video ho fatto l'acquisto e mi arriveranno tra un paio di giorni anzi a dire è vero un giorno mi arriva uno un giorno mi arriva l'altro e perché no magari la settimana prossima vi porterò un unboxing degno di nota e magari li applicherò anche durante quel video beh ragazzi come vi ho detto questo è stato un video veramente cortissimo ho fatto due acquisti su Amazon no mi dimenticavo di dirvi che la cover l'ho pagata attorno ai 13,99 euro ma vi lascio tutti i link di riferimento qua in basso nella descrizione io vi ringrazio di aver seguito anche questo piccolo video e come al solito a parte l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social soprattutto su Instagram qua in basso chiocciola miticosnake potete contattarmi parlare con me tutti gli aggiornamenti passano prima da Instagram e poi arrivano qui al canale YouTube e mi dimenticavo di dirvi visto che è stato un video veramente short come si dice in termini tecnici voglio sapere la vostra su di questo acquisto qua in basso nei commenti e se vi è piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri like sfondate quel pulsante e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sperando di riuscire a mantenere l'orario un saluto a tutti da Miticosnake ciao